In questa emergenza dovuta all'alluvione che sta colpendo l'Emilia Romagna e le Marche, le centrali uniche di risposta CUR 112 stanno supportando le attività di soccorso grazie all'applicazione già in uso per il servizio 112 sordi. I parenti delle famiglie presenti nelle aree alluvionate contattano la centrale che gestisce le chiamate attraverso la tecnologia del 112 sordi. Inoltre, grazie a device abilitati, possono collegarsi con la rete satellitare. Le centrali uniche di risposta del Piemonte stanno ricevendo le chiamate di soccorso di utenti sordi che utilizzano il 112 sordi, gestito a livello nazionale dall'azienda Zero Piemonte e le richieste di soccorso inoltrate attraverso il servizio satellitare. Queste richieste di soccorso, grazie alla rete di comunicazione e alla banca dati a disposizione, vengono inoltrate alle sale operative competenti in ogni territorio. In questo momento i comandi dei Vigili del Fuoco di Torino e Cuneo, in presenza di momenti di iperafflusso di chiamate a causa dell'alluvione, supportano l'inoltro delle chiamate. Nell'ambito del servizio 112 sordi si è evidenziata la necessità di garantire alle persone sorde un supporto alla traduzione nella lingua dei segni. Gli operatori che possono trovarsi nella necessità di dover comunicare con utenti sordi in momenti in cui non vi sia la presenza di cargiver, utilizzeranno il servizio 112 sordi. Grazie alla collaborazione dell'ente nazionale sordi, di ENS Piemonte e di Comunica ENS, utilizzando sia la tecnologia di 112 sordi che il servizio satellitare, si è attivato un servizio di video chat con interpreti della lingua dei segni. La tecnologia di 112 sordi e Comunica ENS è stata come un ecosistema di livello nazionale, commenta il dottor Carlo Picco, commissario di Azienda Zero Piemonte. Questo ci sta permettendo non solo di mettere a supporto ed aiuto il nostro personale e le nostre tecnologie, ma anche di affrontare e risolvere problematiche operative con il supporto di diversi professionisti. Il presidente nazionale ENS, Raffaele Cagnazzo, afferma, oltre ad esprimere tutta la nostra vicinanza e solidarietà alle popolazioni dell'Emilia Romagna e delle Marche colpite in queste giornate da nubi fragi, frane e desondazioni, abbiamo sentito il dovere di dover fare la nostra parte e mandare un segno alla comunità sorda del territorio. Grazie al prezioso lavoro degli operatori esperti in lingua dei segni e dalla stretta collaborazione con il 112 di Azienda Zero Piemonte, dal pomeriggio del 18 maggio fino alla fine dell'emergenza all'ovione, il nostro servizio Comunica ENS è attivo in maniera continuativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. L'assessore alla Regione Piemonte Genesio e Cardi evidenzia ancora una volta le qualità tecniche del sistema di emergenza della Regione Piemonte, ma ancora di più la dedizione e professionalità del personale, elementi essenziali, alla base proprio dei risultati raggiunti. Grazie a tutti.